Nuovi disagi per il traffico a Pescara dopo la chiusura di una tratta di asse attrezzato, causa frana avvenuta a Pasqua, restrizione di corsie, manutenzioni varie, il Comune fa sapere che da domani, mercoledì 10 giugno, e per almeno 3 o 4 mesi, i lavori per la costruzione del Ponte Nuovo richiederanno la chiusura dell'uscita situata a Porta Nuova, quella che indica l'Università. Proprio laddove oggi c'è questa rampa di accesso verrà realizzata la rotatoria di svincolo di uscita del ponte e quindi va a occupare proprio una metà di quella rotatoria, quindi si rende assolutamente necessario la chiusura per un periodo di qualche mese, dopodiché verrà riaperta per realizzare l'altra parte e quindi avrà già un andamento conforme a quella che è la nuova fisionomia del Ponte Nuovo. Disaggi che il Comune spera di ovviare con una comunicazione diffusa via Facebook e con comunicazioni ripetute e che inevitabilmente richiederà a cittadini e non residenti di utilizzare percorsi facoltativi, quale, magari, la neorealizzata uscita sul vicino Ponte di Capacchietti. Disaggi che purtroppo avevamo ampiamente previsti ma che finora sono stati contenuti rispetto a quelle che erano le prefigurazioni fatte. Ci auguriamo che anche in questa situazione il disagio sia contenuto.